I rifiuti sono un errore di design, non solo uno slogan, ma un'espressione che presenta la mostra Scoria Illustrate, un progetto di comunicazione ambientale che spiega in maniera semplice come i rifiuti non siano altro che errori di design, perché il miglior rifiuto è quello che non si produce. La mostra, ospitata negli spazi del Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura in Fiera del Levante a Bari, è visitabile fino a venerdì 21 aprile. La riduzione a monte è l'azione principale che guida da tempo le politiche comunitarie e in quest'ottica, oggi più che mai, produrre oggetti non riparabili e riutilizzabili o a ciclo di vita troppo breve si configura come un vero e proprio errore di progettazione. L'idea di un calendario che diventa un libro illustrato da conservare e quindi diventa un prodotto artistico, ma anche un messaggio forte circa il riuso, è una sintesi estremamente rilevante ed è un esempio sulla base del quale svilupperemo le azioni e gli interventi che a breve partiranno nell'ambito di quello che abbiamo chiamato welfare culturale e welfare turistico pugliese. Come evitare che un prodotto generio si trasformi in uno scarto? La risposta è il calendario libro presentato all'inaugurazione della mostra, un calendario che diviene libro illustrato di poesie per adulti e fiaba per bambini. La sostenibilità lo si fa sempre in casa, in qualsiasi cosa, in qualsiasi momento. E questo vuole essere un esempio da portare come un nuovo metodo di fare sostenibilità reale.